Salve gente e buon 2 giugno, festa della Repubblica a tutti. Vi chiedo scusa se l'audio non è il massimo. In realtà voi mi direte, vabbè ma non è mai il massimo, perché c'avete ragione, c'ho un microfono da 20 euro che si attacca qua e che non è che di solito funziona benissimo, ma funziona ancora peggio quello direttamente del cellulare. Purtroppo il mio microfono, diciamo, aggiunto e il cellulare hanno deciso di litigare. Adesso non so chi ha più colpe, se il microfono o il cellulare, fatto sta che non riesco a fare un video con un audio decente adesso. Per quanto riguarda, per quelli che si stanno chiedendo, ma avrai sentito qualcuno, qualche novità, ci vuoi dare qualche novità? Io il mio contatto l'ho sentito oggi, ci siamo sentiti per altri motivi, ma lui, voi sapete che io, per chi non lo sapesse vuol dire che non si è iscritto al canale, quindi iscrivetevi, rimanete aggiornati cliccando sulla campanellina e se poi mi lasciate un like vi ringrazio. Ma, per chi non lo sapesse, io ho un contatto che ha un fortissimo contatto all'interno della Lazio, molto all'interno, un pezzo importante della Lazio, che ci fa la cortesia o gli fa la cortesia di aggiornarlo su quello che sa e di aggiornarlo su quello che può dire, ovviamente. E io, se no, siamo rimasti con questo mio contatto dall'ultima volta che ci ha informato che si stava trattando, sì, fortemente su Sarri, ma che c'erano anche dei nomi esteri, soprattutto, che giravano. E lui mi ha riconfermato più o meno quello, nel senso che su Sarri si sta lavorando e per quanto nel video precedente vi ho detto che i giornali stanno dando al 70%, 75%, 90% Sarri e la Lazio, lui mi dice che se deve dare una statistica si ferma al 50%. Cioè, non c'è un di più, la statistica è al 50%. E non è un problema economico, perché non sono quei 500.000 euro tra quello che chiede e quello che offrono, perché c'è il fisso, che la Lazio sembra che si sia fermata a 3 milioni di fisso e loro vogliono 3 milioni e mezzo di fisso, ovviamente più bonus. Ma non è quello il problema, perché le due parti si possono incontrare a metà strada, in questo senso. Il problema è la parte tecnica, ragazzi, la parte tecnica dove Sarri, proprio in questi giorni, sta cercando di capire. Perché voi sapete benissimo come funziona la Lazio, ragazzi. Altro paragone con l'Atalanta. L'Atalanta vede un giocatore, compra un giocatore, non gli piace, lo dà via subito o lo rivende, anche se ce ne rimette qualcosa, lo dà in prestito o comunque se lo leva di mezzo. Ma soprattutto cerca di darlo via, non si tiene pesi che sa che tanto poi non gli serviranno. La Lazio, no. La Lazio quando compra, calcolate che noi abbiamo tipo una ventina di giocatori ancora in giro che stiamo pagando e probabilmente una dozzina ce ne torneranno anche indietro, perché non hanno neanche fatto bene. E noi continuiamo a prendere giocatori e a tenerceli. E per la politica della Lazio, soprattutto per la politica di dare, e anche perché entrano in bilancio anche i costi di questi giocatori, se un giocatore, questo estate, è stato comprato e ha fallito nel primo anno, gli si concede comunque un secondo anno. Quindi noi, come dissi all'inizio dei primi video di questo canale, se avessimo sbagliato, come poi ho pensato, visto poi che abbiamo comprato, che secondo me avevamo sbagliato clamorosamente il mercato, ce lo saremmo comunque portato avanti non solo per tutta la stagione, ma sarebbe stato, se all'interno della stagione non si fossero confermate e non fossi stato smentito dalle mie impressioni su questi giocatori, ce li saremmo portati anche per un secondo anno e lì sarebbe stata ancora più grave la situazione. E sembra che il problema, ragazzi, è proprio questo, è proprio che in realtà non si vuole fare stravolgimenti, come al solito non si vuole, anche se ci sono delle offerte incredibilmente per Murici, che però girano intorno ai 10 milioni, non si vuole dare Murici a 10 milioni via, perché se ne sta divagare il 19,5, e loro pensano che una seconda stagione di Murici potrebbe in realtà confermare quelle che sono state le visioni, tra virgolette, ma secondo me gli interessi di dare a prendere questo giocatore. Molti diranno, oh, ma ieri ha fatto 4 gol per San Marino, e quella giocasse al campionato di San Marino, che può essere che è il campionato nella sua, diciamo, dimensione, perché in Serie A non si può giocare. Comunque, diciamo che lo scoglio grosso è quello, ragazzi, la parte tecnica. Sarri qualcosa gli piace, ma qualcosa non ci fa niente. Quindi stanno cercando di capire quanto gli verrebbe. Io ieri vi ho fatto un video con uno schemino, che ho anche aggiornato, ma non ve lo metto qui, perché non ha proprio senso cominciare a parlare. Cioè, nel momento in cui mi dicono Sarri, vi dicono, ragazzi, se c'è Sarri, ecco, voglio questo. Tutto sto perdita di tempo che faccio negli schemini, le cose, non ha senso per due motivi. Uno, perché intanto non compieranno mai, non faranno mai i movimenti che dico io, come l'anno scorso ho fatto una lista di giocatori e non l'hanno presi, ma soprattutto perché le cose logiche nella Lazio non ne vedo mai. Quindi, in realtà, quello che secondo me è logico ed economico nella Lazio viene gestito in altro modo. Quindi è inutile farvi adesso degli schemini. Vi dico solo che c'è la possibilità, secondo me, di potersi muovere bene. Con un paio di sacrifici ci si può muovere bene sul mercato, in realtà, per dare grande scelta se fosse Sarri. Però, ho detto, ne riparliamo in un altro video. Adesso, chiudendo un attimo il capitolo Lazio, ragazzi, perché tanto non credo che oggi, ve l'ho detto che probabilmente domani il giorno clou, perché domani non solo la Lazio, ma molte panchine dovrebbero chiudere, avere dei sì e dei no su molti allenatori. Quindi, diciamo, il campo si potrebbe anche ristringere ulteriormente. Per quanto, ripeto, a me mi dicono che si parla di Sarri al 50% e al 30% si può dare un allenatore X, probabilmente straniero, e poi un 10% dicono italiano, un 10% lo vogliamo dare a un altro Mr. X italiano. Cioè, italiano l'allenatore, un altro Mr. X allenatore italiano. Scusate, gioco le parole, però è così. Più o meno sono queste le percentuali. Comunque ho detto, ne riparleremo. Parliamo invece di un altro allenatore, ragazzi, quello della Nazionale, Mancini, che ha fatto la sua scelta, 26 giocatori. Onestamente io, di questi 26, si vanno bene quasi tutti, perché tanto ormai erano quelli. Però onestamente, Toloi a posto di Mancini, anche no. Anche no, non perché Toloi non abbia fatto bene, ma secondo me Mancini può dare di più. Mancini, secondo me, poteva dare di più. Come del resto, Raspadori al posto di Politano o Pessina? No, no. Io personalmente preferivo Pessina, a Politano, perché a me Pessina piace, perché dalla mediana fino a dentro l'aria percorre tutta la strada centrale e secondo me è una spina fastidiosa. Per me Pessina poteva fare bene e dare un qualcosa in più rispetto a Raspadori, che non capisco veramente. Quando verrà utilizzato è talmente giovane che c'ha il tempo per poter magari fra due anni essere realmente un titolare. Adesso è Pessina il giocatore. Quindi non mi sono piaciute queste esclusioni. Però, ragazzi, come sempre, a notare lui che bisogna fare? Lui li ha visti, lui sa come quello che gli serve, lui ha in mente quello che è. Per quanto sappiamo benissimo, io mi ricordo Nazionali di Trapattoni e anche altri nazionali dove si portano 26 giocatori e poi giocano sempre gli stessi 14-15. 8-9 non vedranno mai il campo. Quindi probabilmente anche se avesse portato questa Pessina probabilmente non avrebbe ugualmente mai giocato. Invece, sono convinto che Mancini in qualche occasione in più l'avrebbe avuta. Anche perché anche qui si affida molto all'esperienza di Chiellini e del binomio Chiellini-Bonucci che comunque quest'anno non ha fatto benissimo. Io Chiellini onestamente l'avrei anche salutato, ragazzi. Vuoi tenere solo lui? Ciao Chiellini e metto dentro Mancini. 36 anni, ancora in difesa, a guidare la difesa, boh, doveva essere... Diciamo sì, ha modernizzato un po' Mancini ma secondo me poteva fare anche un salto ulteriore e togliere Chiellini e tenere Bonucci. Invece, se ancora ci si affida a questa coppia, però onestamente secondo me è una coppia che ha cominciato a perdere colpi e quest'anno ne ha persi veramente tanti. Questo è il mio parere, ragazzi. Fatemi sapere il vostro. Secondo voi Mancini ha fatto bene a escludere questi tre giocatori? Chi avreste tenuto? Chi avreste mandato via? Se qualcuno che indipendentemente non è stato preso nei primi 32 avreste portato o avreste dato qualche chance in più insomma fatemi sapere quello che pensate della nazionale visto che oggi al giugno si parla della Repubblica Italiana ecco parliamo allora anche di nazionale e fatemi sapere la vostra sulla nazionale lasciamo perdere per oggi la Lazio perché ripeto non credo che oggi ci siano notizie e se ce ne fossero ovviamente vado The Rec e vado a farvi un video chiedo ancora scusa dell'audio spero di risolvere il problema e far pace al cellulare e al microfono o altrimenti cercherò di trovare una nuova accoppiata tra cellulare e microfono per il momento Olive Dolce mi raccomando iscrivetevi digitate sulla campanellina e un like prima di uscire da questo video salve gente le olive dolce